Sì, ma è piccola. Ma sei qui da sola? Ci ha trovato un biglietto in tasca alla bambina. C'è scritto di non andare dalla polizia, che se la viene a riprendere. Il biglietto è disperato. E solo per oggi pomeriggio l'allegra compagnia presenta il suo spettacolo. Non mancate! Io direi che interrompiamo, che tanto non viene nessuno, guarda. Allora stai sempre con me? Puoi stare con me? Che? Davvero? Sempre? Sì. Io non voglio andare in galera per sequestro di persona. Perché l'hai sequestrato? Eh? Non l'hai sequestrato, l'hai trovata. È una donna molto simile, perlomeno così. Lei era qua e non ha visto niente. Bisogna trovare una soluzione per questa pipellina, perché noi possiamo tenerla. Quanti sei da abitare qui? Allora io sono io e mio marito. La bambina? Sì, no, la bambina è la figlia di mia nipote che mi ha lasciato per qualche giorno. Oh! 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 Grazie a tutti.